Confermiamo pubblicamente l'impegno che assumiamo davanti a tutti i cittadini italiani, quello di cancellare l'Imu sulla prima casa nel primo Consiglio dei Ministri dopo la nostra vittoria, esattamente come facemmo nel 2008 avendo promesso di abolire l'ICI e l'abolimmo secondo quanto promesso. Nel nostro primo Consiglio dei Ministri delibereremo come risarcimento per una imposizione sbagliata e ingiusta dello Stato la restituzione dell'Imu sulla prima casa pagata dai cittadini nel 2012. La restituzione potrà avvenire attraverso un rimborso vero e proprio sul conto corrente oppure in particolare per i pensionati o perché preferirà questa modalità in contanti attraverso gli sportelli delle poste. Abbiamo un ragionevole motivo di pensare che una volta completata la fase di invio delle lettere ai cittadini interessati il processo di rimborso possa concludersi addirittura nell'arco di un mese. Cominceremo già anche qui dal primo Consiglio dei Ministri a ridurre di molto i costi della politica dimezzando il numero degli eletti in Parlamento, dimezzando il numero degli eletti politici nelle regioni, nelle province, nei comuni e abolendo del tutto il finanziamento pubblico per i partiti politici.